Ciao a tutti, ciao a tutte, come state? Come state? Benvenuti e bentornati sul canale. Spero che vada tutto bene. Io oggi ho fatto un po' di spese folli, però proprio in particolare e volevo farvi vedere una cosa, cioè delle cose, perché sono andato in un negozio che è una catena, una catena di negozi che ho visto qua in Spagna, che è nuova, ed è questa qui vi faccio vedere il sacchetto, si chiama Capitano e Candy Shop e come vedete sul sacchetto c'è tipo una nave pirata, perché praticamente è un negozio, diciamo, fatto proprio a nave pirata e dentro ci sono tutte le botti, la botte e le botti, scusate che siccome ormai non lo so più l'italiano, ogni tanto mi vengono i tubi, tutte con queste caramelle messe sopra e tu puoi prendere il sacchetto e scegliere le caramelle che vuoi e riempire il sacchetto e poi in base al peso lo puoi. Il fatto è però che sono le classiche caramelle, quelle che si comprano nei negozi di caramelle appunto, però sono giganti, cioè proprio giganti. e io sono sempre, passavo davanti a questo negozio e poi dicevo no, vabbè, queste cose succherate e poi oggi, niente, ho detto, mi volevo riparare dalla pioggia e ho pensato di entrare a dare un'occhiata e sono uscito con dei sacchettoni di caramelle e quindi me le faccio vedere e le proverò insieme a voi. Tra l'altro sto ultimamente passeggiando molto per la città, per Madrid, perché fra una settimana più o meno non sarò più a Madrid, però vabbè farò l'annuncio nel prossimo video e un po' di pazienza e se ne sapete di più, però sì, sto lasciando Madrid. Questo negozio mi ha fatto venire in mente una cosa di quando ero piccolo che adesso vi racconto. Allora intanto da quale partiamo? partiamo dalla caramella più classica, ovvero l'orsetto gommoso. Gigante, guardate che grande. I classici ossetti gommosi sono tipo più o meno così. Ecco questo gigante. c'era di diversi color, diversi gusti. Ho preso questo giallo e vediamo che sapore ha. Cioè so il sapore degli ossetti gommosi qual è ovviamente, però proviamolo. L'odore purtroppo può decapitare. che buono. A me solitamente gli orsetti gommosi non piacciono come tipo di caramella, però questo mi piace, a parte che mi sento la bocca a strappiede. Un orsetto gommoso decapitato. Sapete qual è la caramella che mi piace di più, le caramelle, le liquirizie, quelle tipo a rota, a spirale, e poi una caramella che solitamente a nessuno piace, ovvero sono i cilindri di liquirizia che dentro hanno una specie di cremina colorata, non so se avete capito quali, che ogni volta tutti dicono, a me piace tantissimo. Guardate questa caramella, la caramella con la forma di panare, con lo zucchero. Guardate, tu, una super super banana. Però questa, adesso non le assaggerò, ve lo volevo solo fare vedere per farvi vedere quanto è grande. Quasi quanto una banana, diciamo, della vera, della frutta vera. Però adesso assaggerò questa fragola enorme. Credo la luce sia un po' troppo forte, non possa avvicinare troppo le cose, se no non si capisce bene il colore, però è tipo un fragolone mega gigante. Adesso non lo mangerò tutto ovviamente, però voglio assaggiare com'è. Buono. Il più buono dell'orsetto. Questo è proprio buono. Comunque, vi stavo dicendo che mentre stavo lì, praticamente mi è venuto in mente di quando ero piccolo. E quando ero piccolo, nella mia città c'erano diversi negozi di questi caramelle che tu prendi e riempi i sacchetti. In particolare mi ricordo che ce n'era uno che si chiamava Sweet Sweet Way, dove andavano tutti. guardate, la caramella, la tipica, quella dell'uovo, dell'uovo occhio di bue, tipo però versione gigante. E questa di solito, quanto non l'ho mangiata un po', l'ho assaggiata, la versione piccola mi piaceva, vediamo. No, perché non mi ricordo bene il sapore. Vi immaginate veramente il sapore dell'uovo? No, scherzo. Sarebbe un po' di disgusto. Ma, non sa, di niente. Ottimo. Comunque io andavo in questi negozi con i miei cugini. E i nostri genitori, ovviamente, eravamo piccoli, i nostri genitori ovviamente ci davano i soldi. E noi dovevamo, eravamo quattro, io, due miei cugini, che sono fratelli, e una, diciamo, amica dei nostri genitori, che aveva la nostra età, quindi per noi era come una cugina, però. E loro ci dicevano di prendere due sacchetti da condividere, tipo io e un'altra persona e le altre due persone. Cioè, insomma, avete capito, quindi di dividerci le cose. E questa ragazza, questa amica dei... la figlia degli amici dei nostri genitori, faceva tipo... Guardate, questa è la... la bottiglia di Coca-Cola, quella con lo zucchero. Versione mega big. E questa... questa raga, va bene, all'epoca era una bambina, ovviamente. Faceva tipo... che ne so, quelle che piacevano a me. Faceva, allora, tre cucchiaini di queste. Uno, due e tre. Poi quando doveva scegliere, invece, quelle che piacevano a lei, visto che condividevamo il sacchetto, faceva tipo... Allora, tre di questo. Uno, due. Faceva i cucchiai alti così, quelle che piacevano a lei e quelle che piacevano a me, tipo... Mezzo cucchiaino. Uno, due, tre. Insomma, era una barona, praticamente. E poi mi sono venute in mente queste... queste cose di quando ero piccolo. Che ci divertiamo. Adesso berrò questa Coca-Cola. Ah, ma anche questa... è sempre stata una delle mie preferite. Quella è la Coca-Cola. Invece a voi quali caramelle piacciono di più? Io non ne mangio spesso, in realtà io sono dipendente dal cioccolato, quello sì. Mangio tantissimo, tantissimo cioccolato. Ma sono capace di finti comprarmi una tavoletta e finirmela tutta ad un colpo. Però caramelle così zuccherate, no, questa è proprio un'eccezione. Allora, guardate. Avete presente i... Macaron... Macaron? Non so, come si chiamano. Insomma, avete capito quali... Macaron. E c'è la versione... La caramella... Grandissima. Anche questa c'era tanti colori, però ho preso questo... Ce n'era una super blu elettrico che volevo provare, però ho detto... Non lo so che colore è blu elettrico. Super chimico. Cioè, non che queste siano cose naturali, insomma. Vediamo come posso mangiarla, questa. Questa mi ispirava un sacco da provare. 3, 2, 1... Che strano. Allora, praticamente, queste due sono identiche al marshmallow. C'è un marshmallow. Invece questo qua del centro è duro, non me lo aspettavo. È tipo un, non lo so, un biscotto, non si capisce. Però è tipo croccante, duro. Però è buona, vabbè, a me i marshmallow piacciono. Questo è buonissimo. Fra tutti quanti forse questo è quello che mi piace di più, insieme alla fragolona. Scusate, è passata un po' la luce perché era troppo forte. E mi sto anche controllando la barba perché, diciamo, il mio problema quando mangio è che la barba a volte ho qualcosa, tipo, e non mi accorgo. Infatti l'idea di massima non mi sento molto a mio agio quando mangio, a mangiare nei video, ecco. voglio superare i miei limiti e provare cose nuove. E poi la prossima caramella è questa. Questo serobentone, tipo gigante, che potrebbe essere benissimo una collana, guardate. una collana di caramella. E solo che, siccome già ho decapitato l'orsetto gommoso e ho fatto una scena splatter, questa volta l'inizio dalla coda... No dai, decapiterò anche lui. Mi piacciono le cose splatter. Oh! Mi spiace. Un po' crudello come cosa, però... La vita è crudella. Mi sono un po' crudello. Esa vita è crudella. Un po' crudello come cosa, però... La vita è crudella. Un po' crudele. Devo dire che questo negozio è un po' caro, però è carina l'idea, mi piace come l'hanno l'ho fatto tutto con stile nave pirata e il sapore delle caramelle è quello, la vine, però attira questa cosa che le vedi in formato gigante Candy shop, candy shop E nulla, questo era un po' tutto, perché poi ho preso altre caramelle diciamo classiche, normali piccoline che non sono giganti, quindi non le faccio vedere E credo già che il prossimo video che girerò sarà dalla nuova città in cui andrò a vivere E' sempre qui in Spagna, però se volete ve ne parlerò nel prossimo video di chiacchiere dove vi racconto alcune cose e alcune riflessioni che ho avuto ultimamente E spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, vi abbia aiutato a rilassarvi E ci vediamo presto al prossimo video, ciao ciao